Sono Adele, la moglie di Alfredo Di Nardi. Ho commesso un peccato grave. Non esiste un peccato tanto grave che il Signore non possa perdonare. Ma come si fa ad amare qualcuno e poi arrivare ad odiarlo così tanto? Puoi fermarla, questa moglie. Non credo più a nessuno. Alfredo è una persona pericolosa, è cattivo, è violento. Mi avevate giurato il segreto. E io il segreto non mantengo. Adele, il segreto non è stato tradito.